Diamo il benvenuto al Sindaco Danilo Lo Giudice. Buonasera Sindaco. Buonasera a voi, ovviamente grazie per l'invito. Sì, Sindaco, anche a lei chiediamo in questi giorni di emergenza nazionale come sta agendo l'amministrazione comunale di Santa Teresa per venire incontro ai cittadini. Noi ovviamente stiamo cercando di prendere quelle che possono essere delle misure utili alla comunità sia rispetto alla sanificazione di tutto il territorio. Abbiamo ovviamente limitato l'ingresso all'interno del palazzo comunale con la possibilità comunque di prendere appuntamento per quelle che sono delle esigenze delle emergenze. Stiamo venendo incontro alle esigenze anche della popolazione anziana di chi ha qualche difficoltà o di chi sta solo attraverso i servizi sociali proprio per portare quelle che sono le medicine o la spesa o qualunque altra tipologia di esigenza. Ovviamente anche i commercianti stanno seguendo in maniera abbastanza puntuale e precisa quelle che sono le disposizioni e le comunicazioni che via via stiamo dando. È chiaro però che sicuramente è un momento difficile, un momento particolare in cui però bisogna essere responsabili. Dipende tutto da noi, dipende tutto dal singolo, seguire le disposizioni, rimanere a casa, evitare e limitare al massimo gli spostamenti sono insomma un po' quelle che le linee guida che stiamo cercando di far rispettare. Ovviamente con i controlli del caso, non solo posti di controllo, ma anche nei supermercati stiamo cercando di far rispettare l'ordine, la fila, la distanza. Devo dire che anche il corpo di polizia locale sta facendo veramente un ottimo lavoro e la gente, tutto sommato, a parte qualche stupido che c'è sempre da tutte le parti, si sta comportando bene, sta rispottendo abbastanza bene. Voi metterete in atto anche delle agevolazioni fiscali? Sì, ovviamente sì, anche questa è una discussione che abbiamo affrontato fin da subito. Stiamo attendendo quelle che sono le disposizioni del Governo nazionale anche per capire rispetto a questa emergenza cosa vorranno fare. È chiaro che nel momento in cui avremo un quadro chiaro anche noi disporremo delle misure fiscali che possono consentire alla popolazione per quello che ovviamente è limitato alla funzione dei sindaci, quindi parliamo soltanto del servizio idrico e dell'Atari per intenderci. Cercheremo di mettere in campo quante e più misure possibili per venire incontro alla cittadinanza piuttosto che ai commercianti, insomma un po' a tutti. Lei è anche deputato Ars, membro della Quinta Commissione. Ecco, in questa veste come possiamo parlare di questo periodo di emergenza quindi da deputato, da membro dell'Assemblea regionale siciliana. Devo dire che il Presidente Usume ci sta cercando anche con delle ordinanze che sono più restrittive rispetto a quello che è il quadro nazionale di contenere quanto più possibile questa situazione. Certo, è assurdo quello che abbiamo visto stanotte e che si sta verificando in queste ore, ovvero che tantissime persone dal nord si stiano spostando nel sud Italia in piena emergenza. Posso capire, benché non è giustificabile che si sia verificata questa situazione la settimana scorsa quando è sfuggito di mano una bozza di decreto che ha messo tutti nel panico. E va bene, ci sta, ok, può succedere, benché, ripeto, da un'istituzione, da un governo non è ammissibile. Però è semplicemente assurdo che in piena emergenza ci ritroviamo con centinaia e migliaia di persone che partono dal nord per venire in Sicilia o piuttosto che in altre regioni in una situazione di piena emergenza. Credo che questo è inammissibile, credo che il governo nazionale deve intervenire immediatamente. Posso me ci sta cercando di prendere dei opportuni provvedimenti anche rispetto a quelli che sono i controlli, ma questa situazione non doveva assolutissimamente verificarsi. Noi sindaci siamo lasciati nelle nostre funzioni senza strumenti, non possiamo fare ordinanza, non possiamo fare nulla, dobbiamo semplicemente recepire quello che ci viene dato dagli organi superiori e lo facciamo, abbiamo grande rispetto delle istituzioni, però trovarsi di fronte a questa situazione è paradossale. E mi auguro che il governatore Musumeici continui con questa linea restrittiva per cercare di fermare questa mole di gente che sta arrivando anche in Sicilia, ovviamente con dei rischi che sono elevatissimi. Bene, grazie al sindaco Danilo Logiudice, grazie per averci dato un po' il quadro della situazione a Santa Teresa e noi vi auguriamo buon lavoro, auguriamo buon lavoro a lei e a tutta la Giunta, chiaramente. Grazie, grazie a voi anche per il grande lavoro che svolgete. Grazie a tutti.